WL fine dei giochi fra gli applausi Suicidio assistito per Fabio un incompleto sì dal comitato etico Baccia undicenne in strada arrestato Gambiano Scioperi i corrieri postali incrociano le braccia Arte solidale le scuole ritraggono l'inclusione Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Ben ritrovati a Rossini News il nostro telegiornale Il nostro spazio con l'informazione serale Che in questo venerdì 20 maggio apriamo con la copertina Dedicata all'ultimo capitolo di questa esaltante stagione di rimonta Per la WL nel campionato di basket WL che ieri ha concluso il suo campionato con la serie playoff I quarti di finale che hanno sentenziato il 3-0 in favore della Virtus Bologna Ma alla Vitrifico Arena sono abbondati gli applausi per il congedo da un campionato Che ha riportato Pesaro ad un livello che non si vedeva da un decennio Alla Sirena il tabellone sentenzia 55-75 in favore della Virtus Bologna Ma raramente si era vista una sconfitta con passivo di 20 punti Accompagnata da tanti applausi Quella dei 6.000 dell'Adriatic Arena Che hanno osannato il congedo da una stagione pesarese di Catarsi e Redenzione Con i playoff centrati dopo dieci anni di astinenza E conquistati attraverso un'esaltante cavalcata Partita dalle sabbie mobili dell'ultimo posto Il 3-0 nella serie dice che alle semifinali ci va la Virtus come da pronostico Dopo una gara 3 in cui Pesaro tiene per un tempo Salvo cedere allo strapotere delle Vunere nella seconda metà di match In casa WL però la sconfitta custodisce anche la vittoria di riconciliazione Con una piazza e una tifoseria che sa di ripartenza In 6.000 al palazzo compreso chi non ci metteva piede da un po' A cominciare dall'ex patron Walter Scavolini In una tribuna in cui non è passata nemmeno inosservata La presenza di Valentino Rossi per una delegazione motoristica Ben rappresentata anche da Pecco Bagnaia Il sindaco Matteo Ricci positiva il covid attifato da casa Ma al palazzo le istituzioni sono state ben rappresentate Dalla prima volta del prefetto Tommaso Ricciardi Per Banchi alla sua ultima conferenza post partita Il risultato playoff non cambia il giudizio su un gruppo straordinario Non nascondo quel briciolo di amarezza Per non essere riusciti a giocare un secondo tempo In sintonia con quanto fatto nei primi 20 minuti Che non fanno altro che ribadire e confermare Il grande rispetto e considerazione che ho della nostra squadra Ancora una volta pronta ad andare oltre i propri limiti Per cercare di competere con un'autentica corrazzata L'esito di questo playoff non cambia niente nella mia valutazione della stagione Della prestazione dei miei giocatori Della l'efficienza di questo staff e dell'intero club A cui devo riconoscere di aver fatto un grandissimo lavoro Insieme a tutta la squadra Per invertire la tendenza di una stagione Che stava prendendo una brutta piega All'ottava giornata di campionato Avevamo collezionato solo una vittoria Eravamo all'ultimo posto E da molti considerati forse la principale candidata alla retrocessione Ho continuato a chiedere alla squadra uno sforzo pazzesco ogni giorno Per far diventare una stagione I cui presupposti erano così negativi Trasformarla in qualcosa di unico E poi diventato speciale E quindi sono stati bravissimi Finisce la stagione ma per banchi Questo campionato deve essere il punto di ripartenza Per il basket pesarese È veramente qualcosa di unico Andare in vacanza con il pensiero Di aver costruito qualcosa di importante E io ritengo restituito a Pesaro qualcosa di importante Questa è la VL che i pesaressi desiderano E questo è il tifo che i giocatori della VL desiderano Quindi ribadisco È un binomio indissolubile E questo è un club che va amato incondizionatamente Quindi spero questa possa essere eredità Di base una pietra angolare Su cui costruire le prossime stagioni Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato Il toccante video appello Alla richiesta di suicidio assistito Da parte del 46enne fermignanese Fabio Ridolfi Tetraplegico da 18 anni In cui è capace di comunicare Col mondo esterno Solo attraverso il movimento delle palpebre Che guidano il suo puntatore oculare Dopo il video reso virale Dall'associazione Luca Coscioni E' arrivato 24 ore dopo Il parere positivo del comitato edico Della regione Marche Al suicidio medicalmente assistito Ma l'ottenimento dell'obiettivo E' stato offuscato dalla frustrazione Della famiglia Ridolfi Per un parere che era già stato avallato Lo scorso 8 aprile Ma che è stato divulgato Solo dopo il video E oltretutto si contesta Anche la frammentarietà Di una risposta Nella quale non viene fatta Alcuna menzione A modalità o tempistiche Ed ora alla cronaca Episodio allarmante In via Rossi Strada principale Del quartiere Pantano di Pesaro Dove martedì Un uomo di 24 anni Ha avvicinato due bambine Baciandone una in bocca La ragazzina in questione Aveva appena 11 anni E si è divincolata dall'uomo Scappando fino a casa E raccontando tutto Alla madre Che ha subito allertato I carabinieri Nei pressi della stazione ferroviaria I militari hanno rintracciato Subito l'uomo Dal fisico piuttosto riconoscibile Di colore Alto due metri E particolarmente magro 24enne Originario del Gambia Questo ragazzo Era già noto Per simili precedenti E davanti al GIP Che ieri Ha convalidato l'arresto Per abusi su minore Non ha fornito Alcuna giustificazione Al suo comportamento E dai carabinieri di Pesaro Passiamo a quelli di Fano Che hanno arrestato Un 26enne albanese Per produzione E detenzione Di una importante quantità Di stupefacente Il ragazzo è infatti Stato sorpreso A guardia Di una piantagione Di 100 metri Ricavata in un terrapieno Adiacente Ad una abitazione Confiscata A Monte Maggiore Al Metauro Particolarmente ingegnoso L'occultamento Della struttura In muratura Il cui soffitto Era ricoperto di terra Su cui pascolavano Pecore e capre Così Da non essere avvistata All'interno Sono stati trovati Tutti i materiali Per un'intera serra Di produzione industriale La piantagione Era ormai Nella fase conclusiva Del suo ciclo vegetativo Ma durante la perquisizione Sono stati trovati 6,5 kg di marijuana Già essiccata E confezionata Nonché pronta Ad essere immessa Sul mercato fanese E questo venerdì 20 maggio È stata una giornata Contornata Da diversi scioperi A livello nazionale Ad esempio Ad incrociare le braccia Sono stati anche I corrieri postali Venerdì 20 di maggio Giornata Di scioperi nazionali Per diverse categorie In tutta Italia Una delle categorie Che oggi incrocia le braccia È quella Dei corrieri postali SDA A Roma È previsto Un presidio nazionale Davanti alla sede Di poste italiane A Pesaro Oggi hanno manifestato Davanti alla sede SDA Di strada dei cacciatori I lavoratori E affiancati Dal presidio Filt CGL Come vedete Bandiere e proteste Al vento Ora vi faremo Sentire Le motivazioni Di questa protesta Le motivazioni Di questo sciopero Mentre come vedete Alle mie spalle Gran parte Dei furgoni SDA Oggi sono fermi Aderendo al diritto Di sciopero Allora Innanzitutto per il contratto Nazionale autisti Riguardante le poste E gli autotrasportatori Perché ci sono stati Prima Erano accettate E poi sono state Rifiutate Quindi per questo motivo A Roma C'è lo sciopero nazionale Autisti Prima cosa Poi per alcune cose Riguardanti E che non si confronta Dipendono Dipendono dal marchio Però chiaramente Bisogna che senta Che dire Ascolta Le nostre richieste Anche poste Ed SDA In quanto sono Loro i capofila Quello che oggi Noi stiamo vedendo Il primo sciopero Dei corrieri di SDA Potrebbe essere Un riflesso Di quello Anzi È un riflesso A ragione Di quello Che oggi È la filiera Amazon Che ha drogato Tutto il comparto Della logistica E dei trasporti Quindi I competitor Che stanno sotto Ad Amazon Che in una logica Di rapporti di forza Amazon è molto più forte Devono adeguarsi A quello che appunto Amazon richiede E questo È un risultato Di quello che poi Accade Praticamente al lavoratore Ed ora Andiamo a segnalare Una particolare Situazione di degrado Nel quartiere Di Santa Veneranda Per la quale È stata presentata Una interrogazione In consiglio comunale Dalle consigliere Emanuele Gambini Quartiere di Santa Veneranda Ci troviamo Con il consigliere Comunale Emanuele Gambini Di Prima Cepesro Che raccoglie Le segnalazioni Di diversi residenti Di questa zona Protocollando Una interrogazione In consiglio comunale Su un tema specifico Quello del ponte Di Via Del Rio E non è la prima volta Che questo argomento Viene portato da Gambini In consiglio comunale Sì Il problema di questo ponte Riguarda La sicurezza E riguarda L'arredo urbano Perché il ponte È veramente In uno stato Di degrado assoluto Da due anni Anche i cittadini Ci segnalano Questa problematica Io ho seguito Questo problema Due anni fa Avevo presentato La stessa interrogazione Diciamo che Alcune parti Delle fognature Esistenti Che scaricano Sul Genica Sono state aggiustate Ma per quello Che riguarda La ringhiere del ponte Come potete vedere Ci sono grave problematiche Soprattutto per la sicurezza Un ponte È una ringhiere Dove non ci si può Nemmeno appoggiare O passando Toccarla Perché i ferri Sono completamente distaccati Sono arrugginiti E stanno su Solo per il cartello Della segnaletica Che è stato apposto Qualche anno fa Quindi io Il mio gruppo Chiediamo Che vengano rispettate Le esigenze Dei cittadini Le richieste E venga sostituito Al più presto Il ponte Soprattutto Anche perché Credo che non sia più Neanche a norma Se vedete È veramente In uno stato Di degrado Assoluto Un degrado Che poi si allarga Anche a quella Che la vegetazione Un po' incolta Che va a inficiare Anche su quella Che può essere Una passeggiata In una zona Fluviale Che viene magari Valorizzata In altre zone Della città Giustamente Ad esempio Abbiamo il fiume Foglia Dove sono nate In questi anni Piste ciclabili importanti Non dico Di creare Una pista ciclabile Ma sicuramente Il verde Va curato Anche in questa zona Da questo punto Parte anche Un piccolo camminamento Che arriva fino All'avatoio Di Santa Veneranda Sarebbe utile Anche ripulire Dall'erba E ripulire Dalle erbacce Gli argini Del torrente Genica Che comunque Rimane un torrente Della città Importante E' morto Nella notte All'età Di 94 anni Walter Valentini Scultore Incisore E pittore Di rilievo Internazionale Nato a Pergola Valentini Partì dalla scuola Del libro Di Urbino Per diventare Uno dei protagonisti Dell'arte italiana Del ventesimo secolo Mantenendo però Sempre un legame Significativo Con la sua terra Di provenienza Il comune di Pesaro Sistema museo E l'associazione Amici della ceramica Partecipano anche quest'anno A Buongiorno ceramica Grande festa della ceramica italiana Giunta all'ottava edizione L'obiettivo è quello Di portare gli appassionati E i curiosi Dentro le botteghe Gli studi e gli atelier Dove la maiolica artistica E artigianale Viene pensata E creata Ogni giorno In programma Visite guidate Laboratori per i più piccoli E dimostrazioni pratiche Ai musei civici Per accendere l'attenzione Sulla secolare Attività ceramista Della città E prosegue la rassegna Con cui Pesaro celebra E ricorda Pierpaolo Pasolini Nel centenario Della sua nascita Poco fa Al centro artivisive Pescheria È stata infatti Inaugurata Una doppia proposta Dedicata ad uno Degli intellettuali Che ha segnato Il ventesimo secolo Parliamo della videoinstallazione Realizzata da Meeting Rimini A cura di Casa Testori Portata a Pesaro Grazie al centro culturale Città Ideale E della seconda mostra Dal titolo Mario Dondero Otto sguardi su Pasolini Realizzata da Amat E invece domani E domenica Il Parco San Bartolo Accoglierà la prima edizione Di Winetour Con due giornate Ricche di appuntamenti E ospiti di livello internazionale In un format Che prevede Talk di esperti Climatologi e ricercatori scientifici Nonché laboratori didattici Escursioni e track bike Con osservazioni naturalistiche A Fiorenzuola di Focara Winetour aprirà ufficialmente domani Alle ore 10 e 30 Con il talk show Sui cambiamenti climatici Alla presenza di Luca Mercalli Meteorologo e climatologo Che presiede La società meteorologica italiana E il saggista Divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone L'inclusione Rappresentata come forma d'arte È stato questo l'obiettivo Del concorso di piattaforma solidale Dal titolo Arte Solidale A cui hanno partecipato Cinque scuole della provincia E oggi sono stati decretati vincitori Rappresentare in forma artistica Il valore della vera inclusione Cinque scuole della provincia di Pesaro Urbino Negli ultimi mesi si sono prodigate Per realizzare Arte Solidale Titolo del concorso Volto a sensibilizzare Le nuove generazioni Su un tema che dallo scorso luglio Ha prodotto anche il protocollo d'intesa Promosso dall'associazione Piattaforma Solidale In favore di ogni azione o iniziativa Finalizzata all'abbattimento Delle barriere architettoniche E all'inclusione In senso allargato Un protocollo Al quale hanno aderito L'amministrazione provinciale Gli ordini degli architetti Ingegneri e geometri E cinque scuole L'istituto della rovere di Urbania La scuola del libro di Urbino Il liceo artistico Nolfi di Fano Il bramante Genga di Pesaro E il liceo artistico Mengaroni Della stessa Pesaro Progetti realizzati E esposti oggi Per la premiazione del concorso Nella sala Pierangeli della provincia Che sono stati Uno splendido manifesto collettivo Di elaborazione di spirito critico Degli studenti Che sottintendono Come l'obiettivo del concorso Sia stato pienamente raggiunto L'obiettivo raggiunto Ed è una giornata Estremamente importante Perché Non è un punto d'arrivo Non è un punto fermo È la tappa Di un percorso Iniziato Qualche anno fa Da quando abbiamo costituito Piattaforma Solidale Nata per dare valore A tre principi fondamentali Quello della solidarietà Dell'accessibilità Dell'inclusione Strettamente collegati Fra loro Quindi Oggi È una tappa Di un percorso Che continuerà Continuerà Per allargare La rete di collaborazione Con Enti pubblici E enti privati Per continuare A parlare di questi principi È A nostro avviso È ancora più importante In questo momento storico Laddove Il mondo Sta affrontando Un momento terribile Di guerra Di conflitti Da dove nascono i conflitti Sia quelli mondiali Che quelli personali Nascono Dalla mancata capacità Di dare importanza Ai principi di solidarietà E di inclusione Inclusione Che non significa Solo disabilità Ma pure bullismo Discriminazioni etniche Sessuali E religiose Tematiche Emerse da un concorso Che ha premiato Come primo classificato L'acrilico su foglio Anche io Di Arianna Carboni Della quarta B Del liceo artistico Mengaroni Di Pesaro Ho voluto realizzare Appunto Questa Questa persona Che in teoria È immersa nel buio E queste mani Le illumino Perché io penso Sinceramente Che il vero valore Di una persona Si ha Quando gli altri Lo sanno Esprimere al meglio Sanno Illuminare Questi valori Che questa persona Ha E quindi queste mani Che si accorgono Di questa persona Quindi la includono Riescono a farla brillare Dal buio E a farla uscire fuori E appunto Ho anche voluto invitare Ad esempio Sopra In alto al disegno C'è una mano Anche che invita Gli altri A fare lo stesso Comunque includere le persone Perché È il modo In cui possiamo Veramente valorizzare tutti Per Arianna La vittoria Si è tradotta In un autoritratto Realizzato dal mago Delle cubo di Rubik Giovanni Contardi Fin da principio Solidale al progetto Ma anche In contributi Per l'acquisto Di materiali didattici Contributi Che sono stati Assegnati Anche agli altri Studenti premiati E domani All'azienda Agricola De Leiva Nel cuore Del parco San Bartolo Parte De Canto Il primo Di 17 concerti Che l'orchestra Sinfonica Rossini Porterà in altrettante Aziende Vitivinicole Della nostra regione Un nuovo festival Parte sabato 21 maggio Dall'azienda Agricola De Leiva Nel cuore Del parco San Bartolo Si chiama De Canto E in 17 appuntamenti Unirà I concerti Promossi Dall'orchestra Sinfonica Rossini Alla bellezza Territoriale E all'eccellenza Qualitativa Di altrettante Aziende Vitivinicole Marchigiane All'azienda De Leiva Alzerà il sipare Su De Canto Il concerto U2 Tra rock E spiritualità Attraverso La voce straordinaria Di Clarissa Vichi De Canto È una nuova iniziativa Dell'orchestra Sinfonica Rossini Sostenuta Dalla regione Marche E da altre Amministrazioni Pubbliche E con anche Uno sponsor L'azienda Pesarese Oikos Questa iniziativa Si basa essenzialmente Su due aspetti Uno La capacità Dei professori Della Rossini Di esibirsi In piccole Formazioni Cameristiche Di fatto In versione Da solisti E l'altra È lo straordinario Patrimonio Di aziende Viti e vinicole Del nostro territorio Il nostro referente Dell'orchestra Il maestro Bruno Maronna Ha fatto un giro Preventivo Nel territorio Ha scoperto Questa immensa bellezza Perché sono luoghi belli E i prodotti Del nostro territorio Sono davvero Di grande qualità E quindi abbiamo pensato Di unire Musica E vino In una nuova iniziativa Anche seguendo Le direttive Della regione Marche Che vogliono Sostenere Soprattutto Il territorio I prodotti E quindi unendo Due settori In un progetto Interdisciplinare Attraverso la cultura Esaltiamo Il nostro territorio Anche da un punto Di vista Eno gastronomico E quindi Cerchiamo appunto Di far Connettere I settori Come abbiamo fatto Nell'ambito Della legge Dei borghi Dove cultura Turismo E enogastronomia Insieme all'artigianato Sono interconnessi Saranno 17 i concerti Tutti differenti Proprio perché Sarà di fatto Un'orchestra Che si esibirà In tante piccole formazioni E saranno Dal 21 maggio Fino alla fine di luglio Quindi Si possono trovare Tutte le informazioni Nel nostro sito Orchestrarossini.it E nelle pagine social Sia dell'orchestra Che di Decanto E si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci Come di consueto Vi diamo Uno sguardo Su alcuni appuntamenti Della nostra emittente Per chi si fosse perso Poco fa Vox Pop La voce dei pesaresi Può rivedere La seconda puntata Di questo nostro Nuovo format Già nelle nostre repliche Che cominciano Questa sera Alle 22 e 30 Vox Pop La voce dei pesaresi Che tratta la tematica L'estate E alle porte I bagnini pesaresi Sono pronti Per la nuova stagione Punto di domanda Le risposte In questo servizio Che sarà realizzato Dalla nostra New Entry Letizia Moretti E poi venerdì Come ogni sera C'è il Vallefoglie Pian del Brusco Lo magazine Il telegiornale Di questo territorio Curato dal nostro Edoardo Orazzi Prima edizione Alle 20 Prima replica Alle 23 e 15 Come ogni venerdì E la prima serata E la prima serata Dedicata alle bellezze Che si affaccia Che si affaccia Dal San Bartolo Alla città Di Pesaro E poi Sabato È la giornata Ritorno allo sport In diretta Su Rossini TV Quello dell'Ital Service Che domani Sabato 21 maggio Alle 18 È attesa Dalla trasferta Campana In casa Della Real San Giuseppe Si tratta Dell'ultima partita Di regular season Prima dell'approdo Ai playoff Dell'Ital Service E dunque Non perdetevi Questo appuntamento In diretta Su Rossini TV Canale 80 Domani A partire Dalle ore 18 Ed è davvero tutto Per questa sera Da parte mia E di tutta la redazione Vi auguro Una buona serata E un buon weekend In compagnia Dei programmi Di Rossini TV